Il Consiglio Comunale, richiesto in forma urgente da un quinto dei consiglieri per portare in votazione l'atto di indirizzo sulla Costituzione di parte civile del Comune di Arezzo nell'udienza preliminare del processo Coingas-Estra del prossimo 23 marzo, si farà. La richiesta di tutte le opposizioni è stata infatti valutata ed approvata dall'Ufficio di Presidenza, guidato da Luca Stella, e la seduta è stata così fissata per il prossimo 22 marzo. Dopo l'appello, dunque, se ci sarà il numero legale, si procederà subito alla votazione, senza dibattito e quindi anche senza la possibilità da parte di alcuno di poterlo emendare. L'atto di indirizzo in questione viene presentato per la seconda volta consecutiva, a distanza di pochi giorni, dopo che la volta scorsa la seduta non si era potuta aprire proprio perché nessuno dei consiglieri della maggioranza aveva fatto presenza. Oltre a PD, Arezzo 2020, Ristaralli e Movimento 5 Stelle, l'atto adesso è firmato anche da Scelguarezzo. Resta invece ancora da capire come si comporteranno questa volta i gruppi che compongono il centro-destra e che sostengono la giunta Ghinelli. Tra gli indagati ci sono infatti lo stesso primo cittadino, l'assessore al bilancio Merelli, il presidente di Estra Macri, l'ex amministratore delegato di Coingas a Staderini e l'attuale Scortecci.